Oggi parliamo di maternità e part time delle donne lavoratrici e vediamo se sono un peso o sono una risorsa per le aziende. Personalmente, essendo come professionista titolare di una piccola azienda, ritengo che nelle piccole aziende ci sia certamente un grosso problema. In aziende ad alta presenza femminile la mancanza di una persona per maternità anche per un anno e poi un successivo part time davvero costituiscono un grande problema anche se ci sono delle agevolazioni dal punto di vista degli stipendi, dal punto di vista del carico dell'Inps rispetto ai contributi, dal punto di vista della sostituzione della maternità che consentono sicuramente di alleviare il problema. Ma credo che davvero sia ancora più grave nelle grandi aziende. Non credo però che sia un problema di maternità e di part time. Nelle grandi aziende si perde sostanzialmente il controllo ed il contatto con le persone che siano queste uomini o donne e quindi abbiamo un assenteismo molto importante. Se sicuramente qualcuno di voi ricorda ciò che ha detto Marchionne, io non posso consegnare il 20% in meno di una macchina ma io ho ogni giorno il 20% in meno di personale in azienda. Ecco, questo non succede solo con le donne, succede anche con gli uomini, ma certamente nella grande azienda bisogna cercare di riportare un rapporto diverso ai piccoli gruppi e quindi alle singole persone. Non credo in conclusione che la maternità e il part time delle donne siano il problema delle aziende italiane. Certamente va sostenuto perché altrimenti le aziende non ce la fanno, va migliorato il rapporto datore di lavoro lavoratore a mio avviso.